Dragon Ball GT Collection! E' Goku fra dieci anni! Avrà trovato le sette sfere del Drago e che fine avrà fatto Pilafu? Dragon Ball GT Collection, la nuovissima serie mai trasmessa in TV è già in edicola. Con la prima video, il fascicolo e le prime GT Cards a sole 6.900 lire. E a grande richiesta ritorna Dragon Ball Z Collection, la prima video con poster a sole 6.900 lire. Dragon Ball GT e Dragon Ball Z Collection, due collezioni galattiche. Un'esclusiva di Agostini. Un'esclusiva di Agostini.